Paolo Poi Lo so, lo so che detesta le manfrine, i complimenti, però insomma otto anni che aspettavamo, è arrivato, quindi come dire Ti ho portato un regalo, ho ricevuto da te i sonnetti del Belli, perché siamo in via Belli e io ho portato invece un presepio, perché oggi poverino è morto Gesù Cristo e invece è meglio quando è nato, più allegra l'idea Che bellino, molto bellino, chissà se c'è una camera di qua, un pensiero molto carino, e di chi è questo presepe? E di Luzzati, Emanuele e Luzzati, quindi c'entra molto, c'entra, c'entra perché... Sì, perché poi vedi, qui vengono i re magi, quando è il suo momento, sopra ci deve essere la stella Oggi però è il giorno della passione, non è il giorno della nata È uguale, è sempre un personaggio, era un ebreo in fondo, non so se... Molto bello, grazie, mamma mia che bel regalo Ti ringrazio, ti ringrazio tanto, Luzzati, con Luzzati, su, il sodalizio... Io l'ho conosciuto nel 58 Spiega chi era Luzzati, che non tutti lo sanno È uno scenografo, che durante... Lo scenografo Lui col suo solo talento è andato e ha cominciato a fare dei pupazzi Così di fantasia, perché dalle scuole è stato cacciato nel 38 In Italia gli ebrei venivano cacciati via Io sono di una città, Firenze, in cui c'erano molti ebrei Perché il toscano Morfeo, il granduca Pietro Leopoldo Ospitava questi rifugiati che erano persone di talento a volte Come poi dall'Inghilterra sono scappati i profughi per andare a fare l'America E anche oggi dei nostri migliori ragazzi pigliano e scappano e vanno all'estero Ma tu come l'avevi conosciuto? L'ho conosciuto perché sono andato in una compagnia quasi amatoriale di Genova In cui si facevano però un repertorio moderno E ho fatto fin del partito Aspetta, aspetta, perché la storia però io la voglio raccontare dall'inizio Però ora che parli di Luzzati No, è vero che stai preparando questo libro meraviglioso No, io non lo preparo Lo preparo una signora che si chiama Marina Romini Perché questo libro è un evento? Perché tu non vuoi mai libri su di te, libri che parlano di te Invece l'editore Maschetto t'ha convinto? Quando esce questo libro? No, è venuta questa signora e mi ha fatto chiacchierare un po' Della mia amicizia con Luzzati E poi lei ci metterà tutti i suoi sapori di critica di storia dell'arte Capito? È meglio che non parli della prospettiva Perché il mio amico faceva tutti i pavimenti Un po' andava in qua, un po' in là Era estruso Non aveva fatto nessuna scuola Non aveva fatto nessuna scuola Se ne riparla in autunno, credo a ottobre Di questo libro straordinario Ma intanto qui, finché la signora scrive Infatti, la signora sta lavorando Però mi hai fatto questo regalo E quindi mi è venuto in mente Questo mi è venuto in mente a me Perché almeno si vede qualche cosa E di fatti E se no non si vede niente Hai appena finito la tournée Io sì sì I vigili del fuoco hanno apprezzato? Meno perché nel manifesto Perché so che hai una teoria tu sui vigili del fuoco Sì, è questa una teoria vecchia Degli anni 30 Quando il fratello di De Chirico Ha scritto palchetti romani E dice Quando la commedia è bella Si vede sempre una gamba di un pompiere Allora si chiamavano così Oggi bisogna dire vigile del fuoco Come si dice collaboratrice domestica Si dice più la serva Beh, meglio, più carino, no? È più carino, sì E allora i vigili Come lo vedono tutte le sere La noia mortale Quando vedi la stessa gamba Per tutti i soldi Che piace? E questa volta c'erano le gambe dei vigili del fuoco? Sì, poco ormai Perché ci mandano i vecchi I giovani stanno a vedere le partite di calcio E tutte le sere in televisione c'è il calcio Che ci fa la concorrenza E quindi al teatro Vigili del fuoco anziani Dei panzoni bruttissimi Il divino Paolo Poli Legge i quotidiani o non si abbassa questa bruttura? Sì, sì, leggo Dai un'occhiata Ma sempre meno Perché c'ho un occhio un po' mancamentato Sai, vedrai con la vecchiaia C'è un ginocchio che non va L'hai detto con un po' di sadismo No, no, però non è senza qualche dolcezza anche la vecchiaia Perché l'idea di rimanere perennemente lì A sedere davanti al nostro Signore Proprio non l'ha sopposto Per quello tutti preferiscono l'inferno Più variato, capisci? Sì, più di tradizione Sappiamo che hai questa passione per l'inferno Però mi piace Ricordati che oggi c'è la via Crucis Sull'altra rete Quindi E quando ero bambino c'erano delle bellissime processioni Ora bisogna andare nel sud della Spagna Per vedere le madonne portate con tutte le lacrime che piangono Ci fu un'interrogazione parlamentare 40 anni fa Per una tua cos'era? Santa Rita? Sì Perché quella tua Santa Rita? Ma per me era un affettuoso ricordo del teatro parrocchiale Invece fu preso male Perché sai cambiano i sistemi E nello spettacolo mi ero vestito da suora E io stavo benissimo Perché con la vecchiaia le prime cose sono imbargigli qui Invece la suora Anche le grandi attrici quando cominciano a invecchiare Ecco meno male Sei bello Ma incamerato la fanciulla C'è una fanciulla che regge la camera a spalla Hai visto? Che brava Ormai la donna è dappertutto Sono così contento Ascolta hai fatto anche televisione So che non è che hai nostalgia Da giovane Se ne hai fatti tutti Ma adesso ti faccio vedere Perché secondo me hai fatto delle cose meravigliose Le hai un po' rinnegate Però adesso ti obbligo a rivederti Va bene Sì, sono il diavolo Si sa che basta nominarmi per vedere spuntare le corna Oh, tabaran Oh, tabaran Grande mago davvero sai tu Se corrompi per fin la verrà Lei è sposata signora? Certo, certo Brava, allora è una vera anticonformista Signora, come le piacciono gli uomini? Buoni o cattivi? Cattivi Brava, ha ragione Perché vede Alle donne è sempre piaciuto l'uomo cattivo Perché così hanno l'impressione di migliorarlo personalmente No, 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 no Io non amo la pace Questo sottoprodotto delle arti della guerra Io favorisco sempre l'arrivismo delle nazioni Non c'è il vento, ma l'arrivino è femmola Stella d'Italia bella Con la sua vita ti difenderà Sulla gottana Quando la notte si avvicina Dima il saluto alla romana Per chi combate e per chi muore Ed ora la domanda più difficile Siete donna? Donna io? Ma come vi permettete? Io sono una signora Non ti piace rivedere queste cose? Ma è un po' macabro È come le fotografie di famiglia Ma dici perché eri un po' più giovane? Ma avevo già 40 anni Non sono mai stato giovane io Come no? Ho visto delle foto di te a 17 anni Bellissimo Credo che le abbiamo Guarda adesso vedrai che Fabio Calvi le manda No, ero povero da giovane Povero ma bello Non c'è fotografie Guardati che bello Avevo 30 anni qui Ma ce le abbiamo ancora Anche ero più giovane vedrai La bellezza del ciucco tu dici che era Perché? Eh la giovinezza si sa Qualche cosa c'hanno tutti da giovani No lì sei più grande Già capelli grigi Figurati Vedi già i capelli bianchi cominciano Però bello sei sempre stato Scusa se insisto su questa cosa Io ho venduto l'articolo più che ho potuto Ecco Lì avevi 25 anni Sì Vedi? 25 anni sei giovane no? Sì avevo Me l'ho fatto la barba Me l'ho lasciato la barba E me l'ho fatto capelli rossi E barba rossa Sai Sai che leggendo le tue biografie Da te detestate Mi sono fatta l'idea che essere bello Per te fosse quasi un fastidio Non è così? No ma che non so Io non ero di moda Allora usavano Gli uomini virili Quelli Con le palle che fumano Si diceva allora I fascisti E quindi io che ero effemminato Non piacevo Cioè era Quando ho fatto il cinema Io ero sempre l'amico Del protagonista Ma Io invece avevo l'impressione Che ti sceglie No Quella volta che ti hanno chiamato Perché Terence Hill Era malato Che ruolo era? Te lo ricordi? Era un ruolo di fare lo zoppo Perché si fidanza con la Sheikah La Sheikah era una delle orfanelle E così Era la coppia principale Era Interlenghi E la Miriam Bru E io e Millie Vitale Eravamo quelli Che poi da ultimo Veniva un dottore E diceva Ma faccia vedere signora Questi occhi Un piccolo tal Mamma mamma Subito lo vedeva E io la gambetta Subito accomodata Ecco Sai erano dei film Poi hai fatto un film con Mina E Gianni Morandi Si ma non ci si incontrava mai No con Gianni Morandi Con Mina no Perché faceva la sua canzone Poi andava via A quell'epoca lavorava tantissimo E facevo il sarto Poi tiravo un filo E rimaneva nudo Morandi? Bello Bello Era carino? Valeva la pena Senti come ti descrisse Tullio Chezzici al tuo debutto Quasi a teatro Immaginate di possedere un bel quadro E di non avere una parete Alla quale attaccarlo Questa è la situazione Del teatro italiano Di fronte a Paolo Poli Un fiorellino Inclassificabile Ma carino era Ci ha mangiato insieme Fin da ultimo E poi è morto E adesso Vedo quasi più nessuno Ti senti ancora Un fiorellino Inclassificabile Ormai l'età Sei diventato un maestro E quindi non sei più così sfuggente Non mi importa nulla Beh insomma Sei sempre stato molto trasgressivo E nessuno ti riusciva Però la mia mamma Era d'accordo con me Era della Pensava come Jean-Jacques Rousseau Dice Paolo Fai come ti senti E il bambino è perfetto Sbagliata la società Che meraviglia Sì che Infatti Quando ti trovò A leggere Un libro porcellone Che avevi otto anni La mamma cosa disse? Sì sì Leggilo Ma poi restituiscilo A chi te l'ha prestato Non volle Sapere il peccato Erano Le fortunate edizioni Nervini Di Firenze In cui aveva pubblicato Carolina Invernizio Una delle nostre grandi Scrittrici Del secolo Diciannovesimo E Era storia Di allegri Costumi romani Te lo ricordi ancora? Sì Mi ricordo Che cominciava T'ha colpito Oh Uh Ah Come un film Di Woody Allen Che si vedono Che si vedono i doppiatori De vecchietti Orrendi Che fanno I gemiti Di sensualità Sai E così Ma dove l'avevi trovato Questo libro pornografico? Me l'avevano prestato Me l'avevano prestato i compagni di scuola Laddove si impara tutto E comunque la mamma Maestra montessore Sapeva che dal male viene il bene Lo sforzo Dicevo Sai non capivo bene Perché c'erano delle frasi D'annunziane Dice Egli si mise A visitare Tutte le cappelle E invece L'era fra le gambe Della signora Che avveniva La visitazione Però Poi dice E stampando Sonori sculaccioni Sulle belle chiappe Della cameriera Ogni tanto c'era Qualche cosa Villereccia E ogni tanto Invece si andava Sul d'annunziano Che era La cosa Per noi Misteriosa Perché di d'annunzio A scuola Non si faceva La pioggia Nel pineto Si faceva Perché era troppo forte No no Perché era sensuale Mentre invece Si faceva La torpediniera Nell'avriatico Bella Come un'arma nuda Viva Palpitante E allora Quello andava bene Per la scuola L'hai già raccontato Che hai insegnato Un anno I tuoi ragazzi Ti adoravano Era l'anno della chiusura Delle case Di tolleranza E i maschi Le avevano viste Più o meno E le ragazze Mi dicono Professore Lei ci fa leggere Madame Tellier Ed altri racconti Di Maupassant Che si svolge In un casino E noi Casino Non si sono viste Vi porterò Vi porterò io Allora le portai Con la bottiglia Di champagne Che ho trovato Qui nel camerino E che non ho bevuto La bevo dopo io La bevi dopo tu Brava E allora Non l'offremo mai a nessuno Hai rivolato una cosa Che ora tutti gli ospiti Saranno invidiosissimi Che gioia Paolo Poli Altro che champagne Sì I nostri segreti Dietro le quinte E le puttane Erano affettosissime Perché le ho portate Prima Ma i genitori Non si arrabbiarono? No Neanche il direttore Della scuola Perché il supplente Era un supplente Io Quello prima di me L'avevano buttato giù Per le scale I ragazzi Era il 58 Ma erano già svegli Perché tu sei laureato In letteratura francese E infatti Facevo Come ormai ti sei laureato Che avevi tante altre cose Da fare Per far piacere ai genitori No No Mio padre era Bello e morto Da un bel po' Ci tenevi? Perché noi eravamo poveri Quindi la laurea era importante E si studiava con gioia La felicità Di avere dei libri Fra mano Che ora loro magari Non lo sanno Perché i libri Magari non ci sono quasi più Il cartaceo Come mai hai lasciato La televisione Il cinema E ti sei dedicato Poi completamente al teatro Non ti hanno Perché dal vivo Quando arriva Mi guardano così Dopo un po' Li vedo e mi sorridono E lì la mia paga È l'applauso È il sorriso del pubblico Che Mi dice Sì oggi sono vissuto Eccomi Cosa ho fatto di mestiere Sono stato qui a farli Insomma Ti sei divertito parecchio Mi sa Ma sai È una maledizione della Bibbia Il lavoro Non è un divertimento Perché quando Geova arrivò nel giardino E disse Tu partorirai Tu striscerai E tu suderai E sì che io per ora sudo Ho provato anche le altre Ma non ci sono riuscite Prima abbiamo visto le immagini Da Babau Nel 1970 Era un'indagine in quattro puntate Che passò dieci anni dopo Ma sì anche lì ti hanno censurato No no sai Era preventiva la censura Cosa avevi di così Perché Paolo Poli Si censura Sì E quando i miei collaboratori Che sono stati un anno o due A recitare con me Andavano in Rai Dice Non dite No questo non lo metta nel book Nella lista metta Sì Quell'altro va bene No Perché non ero gradito Perché Ma perché ha avuto queste storie Con Scalfaro Che persona da me stimata Intanto non firmò All'epoca di Berlusconi Delle cose insomma insostenibili E cosa ebbe con te Scalfaro E fece un'interpellanza parlamentare Ah era lui in persona E mi fece una grande pubblicità Eh sì infatti E quindi tutte le volte che tu facevi qualcosa Censura preventiva Sì No perché era un'indagine sugli italiani Bella interessante Quindi tu per tutto il periodo hai Insomma non dico che hai fatto il giornalista Perché No Che ne hai orrore Però Ma ce n'è tanti dentro Dietro le quinte Che sanno scrivere Tu ancora oggi conosci perfettamente l'Italia Perché viaggi da un teatro all'altro Sì la Sicilia Raccontaci com'è cambiata L'Italia vera Quella che conosci tu Sai un tempo veniva la borghesia al teatro Veniva l'ispettore delle ferrovie Con la sua signora e le sue signorine Invece adesso vengono in branchi Vengono un branco di casalinghe Con la capofila Quando ride lei tutte ridono Perché è come coi topi insomma Ecco E così i giovanotti Vengono al teatro con più disinvoltura Un tempo si mettevano il vestito buono Come quando si va alla messa di mezzogiorno Quella cantata Invece venivano ultimamente Con le mutande da correre Quelle sai No addirittura Sì sì A teatro Oppure se viene la copchiettina Si tengono abbracciati Sperando in un transfert Che io non gli do Perché Ho letto che avevi provato ad adottare dei bambini È perché era la chiusura della maternità infanzia E ancora non era diventato comunale Asilo E c'era dei bambini di quattro anni E camminavano a gattoni Pieni di piscio Che sapevano due parole Mamma e cioccolata E basta E allora c'era una vecchia mona Dice Prenda prenda scappi via Ho acchiappato due bambini E sono scappato via È uscito fuori il guardiano Dalla sua gabbiola di vetro E mi ha riacchiappato Me la riportate lì E poi mi hanno fatto tutti gli esami psicologici E allora C'era un salotto Dove questa signora psicologica Come c'era prima E mi chiedeva di qui di là La figura femminile Nella mia famiglia E tu? Ecco, ho la mia mamma Ancora viva e vegeta Perché poi invece ho preso Due giovanotti Due ragazzi Uno di quattordici Uno di dodici A te hanno dato quindi in affidio? No, un'estate E poi dopo sono tornati Come è andata? Erano fratelli Ma non si conoscevano Uno stava dai frati Metti Barnabiti Quell'altro dei frati E quegli altri E sognavano di tornare nel branco Perché non avevano una personalità So che una signora ti aveva anche proposto Di fare un bambino con lei Era una scema intellettuale Sì, gli ho risposto Come rispose Come si dice George Bernard Shaw A quella grande attrice Che gli propose di fare il bambino Dice Verrebbe intelligente come lei E bello come me Dice No Verrà brutto come me E stronzo come lei Non disse così Ma insomma più o meno Ho letto in siamo tutte Delle gran bugiarde Quel libro scritto da Giovanni Pannacci Che tu consigli per la vita sentimentale Di darsi ad avventure infime In che senso? Beh, gliel'ho detto a lui Che si dia da fare Perché vive Ah, non vale per tutti No Perché viveva in una cittadina di provincia Vabbè, se non facciamo pettegolezzi su Pannacci Ma No Io mi chiedevo se fosse la tua filosofia Datti da fare Dico, basta buttarsi sul mercato Clienti se ne trova Sì E gli dicevo Guarda, se trovo io Perché il libro è di una decina d'anni fa Ma tu sei Ripeto, non vorrei sembrare Ma tu sei sempre stato molto bello Ma figurati A 80 anni La gente vuole carne fresca Sul mercato E quindi non seduci più Non sei più interessato Come dicevi tu all'articolo Tu sedurrai gli intellettuali Prova a mandare nel mercato vero È più divertente? In mezzo Sì, a me piace Andare in autobus la mattina Quando vanno i bambini a scuola Andare a vedere il mercato Quanto costa la roba Vedere le vecchiette che comprano Furbe che sgomitano Più vecchie e malate sono Che passano avanti A quell'altra Hai capito? Non ti sei mai fidanzato? Fidanzamenti lunghi Ho avuto da giovane Delle fidanzamenti Con donna Con donna Convivenza Ho avuto con un uomo Ma era straniero E viaggiava continuamente Viaggiavo anch'io Non ci si incontrava mai Quindi era un matrimonio Ben studiato A proposito di matrimoni Tu dei matrimoni gay Cosa pensi? È noioso Dice Hai messo tu il sale Nella pentola? No, dici Guarda Perché io metto L'aglio a crudo E poi levo Il pomodoro Io posso impazzire Credevo Che questo fosse Il secolo del sesso Invece È il secolo Della cucina Apri la televisione Non si vede Anche questi Che spadellano Sul cibo biologico Cosa è il suo cibo E quindi è un secolo Noioso Un po' noioso No, ma sai Io poi Mi accingo Andare a salutarla Madonna Dove si trova Intanto Aspettiamo questo libro In ottobre Quando esce Che è straordinario Ma straordinario Sai Il mio amico Era carinissimo Perché aveva comprato La macchina Delle fotocopie Che dice Paolo Bello è fatto Il salotto 700 Ma guarda Questa è la prefettura Di Firenze E la sala Luca Giordano In palazzo Riccardi Medici Riccardi C'è la prefettura Che tutti lo conoscono C'è no Non te la prendere Allora ci metterò Delle colonne Prese da quest'altra porta Poi ci metto Un paio di statue Che pisciano Con uno schizzo D'acqua E infatti Nessuno L'ha riconosciuto A Firenze Ho dovuto dirglielo io Che questa Sala Un po' algida Che mandava benissimo Per le Marchese Del Settecento Cattive Sai Perché io Ho sempre adorato I personaggi cattivi Quando ero bambino Mi faceva fare Il principe Perché io defestavo Volevo fare la strega L'orco Ma invece avevo Le sorelle E le cusine Più grandi Facevano loro I mostri Adesso però Che puoi decidere tu? Infatti Mi sfogo Il prossimo spettacolo Il prossimo spettacolo Cosa farai? Di cattivissimo? Non so nulla Non so nulla ancora Ma non ci credo Odio Come fai a vivere Senza pensare Al prossimo spettacolo? No Ma che sai Idee ne vengono Così cos'ha Ma non sono Finché Fra il dire e il fare C'è di mezzo il mare E quando non sei a teatro Cosa fai? E vado a vedere la mostra Che c'è di quadri Sai A Roma Alzi gli occhi E c'è qualcosa da vedere A Firenze lo stesso Mille cenacoli Dove per esempio C'è un cenacolo Vicino alla stazione Di Firenze Dove non si può andare Bisogna fare la richiesta In carta da bollo Perché ci sono gli ufficiali Che mangiano davvero Come le monache Di una volta E quindi Non ho visto ancora Questo bellissimo cenacolo Tu soffro di solitudine? No Anzi adoro Perché sono sempre stato Circondato Da tanti fratelli Eravamo sei Tre da capo Tre da piedi A dormire nei rifugi I bombardamenti La guerra mondiale Le emozioni Non mi sono mancate Però Che gioia Quando mi sveglio Alle tre di notte Allargo le gambe Non c'è nessuno Che gioia E cosa fai? Rimani a letto E ti godi la solitudine? No Mi alzo Bevo un bicchier d'acqua Fa una fischiatina Sai come i vecchi E poi leggo Ah non accendi la tv Nel cuore della notte Quando sono in periferia Sì perché mi dà Un soffio di italianità E allora invece vedo Un film americano Ultimamente In queste notte Ho acceso E c'era Catherine Hepburn Vestita da ragazzo Com'era carina Geniale Con questo suo visino L'hai mai conosciuta? Un po' ti somiglia Il nasino No io ho conosciuto Norma Desmond Il viale del tramonto Cascita Mentre io giravo Le due orfanelle Lei faceva la mamma Di Alberto Sordi Mio figlio Nerone Faceva Agrippina Sì che Venne a vederci girare E in quell'occasione Rizzoli Che era il produttore Ci detto una sterlina A tutti gli attori A vedere Se andava avanti così Magari non ci pagavano I contributi Quelli Le voci Che ci hanno ora Gli artisti Spero anche tu Avrai queste voci Perché mi è venuta a trovare L'impulse Dici Mi è venuta a trovare Milva E la Melato Anche loro C'hanno una pensioncina Come me Perché all'epoca Ho calcolato Che sarà infima Almeno la mia Tipo non so Sarà infima anche la tua 6-700 euro al mese Poiché sono le pensioni di tanti Io passo le mille Però C'è quel chitto Non si può andare Appena a te E poi negli ultimi anni Ho versato moltissimo E così Ma pigliano di più Quelli che hanno fatto Il cinema Magari Una posa o due Con Totò Che giravano un film In cinque giorni Svegliavano Flaiano Alle tre del mattino Dice Stanno per distruggere Lo scalone Della contessa Azzurra Presto Presto Allora Facevano passare Totò E poi Galeazzo Benti Che veniva Shmalekie Bubi Bubi chi? Bubi Turacciolo Turacciolo Questo nome Non è nuovo Ecco E intanto Si era visto Lo scalone Perché erano film Girati In economia Basta Mi sito Perché ho visto No volevo sapere se almeno Non fare troppo Quello che se ne intende Un'ultima domanda Un ricordo di cinema Che salvi Uno solo Un'immagine Non pensarci Una notte Corrivo A salvare La cieca Che veniva Travolta Da una carrozza Tutta la notte Mi cagai addosso Di tutto Dalla paura Corrivo A volte arrivavo Troppo presto Prima che la fanciulla Fosse travolta Un'altra volta Arrivavo troppo tardi E si vedeva Il cadavere La fanciulla Che scappava Perché era Una cascatrice Esperta Vabbè Meglio il teatro Ho capito Meglio il teatro Grazie a Paolo Foili Grazie Grazie davvero Grazie Attenzione Gradino